Maestro, lei che ha raccontato così bene la nostra realtà italiana, ci dica soltanto quello che le sembra di un festival così genuino, è vero, dove siamo noi di fianco a una fiera e qui c'è un festival serissimo con grandissimi personaggi importanti, insomma è un piccolo pezzo di Italia questo. Un festival che è nato sulla volontà organizzativa di un ragazzo di questa regione, di Gianvito Casadonte, è che in cinque anni ha preso corpo, ha preso forza, cioè ci sono in tante regioni italiane questi tipi di manifestazioni, piccoli festival, rassegne, però in certe regioni, come appunto la Calabria, la Sicilia, assumono un'importanza maggiore proprio perché sono regioni che purtroppo forniscono all'opinione nazionale e internazionale spesso esempi negativi, esempi di corruzione, esempi di malavita, di mafia, di camorra, di indrangheta. Ma intanto Casadonte è un coraggioso, chiaramente perché ha cominciato da solo, senza essere sostenuto da nessuna istituzione, il dato che colpisce di più è proprio la partecipazione della gente. Cioè io faccio di tutto per portare avanti il mio progetto senza pensare a quello che dovrà essere o quello che sarà o... Tutto quello che è accaduto è qualcosa di magnifico. Cioè io faccio di tutto per portare avanti il mio progetto senza pensare a quello che è il mio progetto. E io abitando in mezzo a un mondo e bevendomi un passaggio. Tutto, tutto quello che mi passa dentro da megano è così. Abitando in mezzo a un mondo e bevendo, conversando in mezzo a un mondo e bevendo, conversando in mezzo a un mondo e bevendo, ragionando in mezzo a un mondo e bevendo. E c'è una bella prossa bovena, è una pizza italiana, che è solo il volo e lo fa l'oscurità per noi. che so che quale e l'idea ne capite e mi penso una una stanzetta umida una stufetta elettrica per ovvero la illa incazzatura della metropoli allora se sei l'ora che gira gira girare l'otro mondo come essere vinta nuova per arrivare a tutti io voglio fare un grande applauso ovviamente a Gerardo Sacco a Gerardo Sacco e no che fa carino che fa carino a spintone nell'attualità nell'attualità come a spintone in un mese dramma la miglior opera prima che va a lezioni di cioccolato una meravigliosa commedia all'italiana consegna il premio Ettore Scola ritira Rolando Ravello ho detto vada a trovarlo gli faccio un premio perché anche lui in cinque anni ha costruito un impero come io ho fatto in otto siamo due italiani due nuovi imprenditori ognuno di diversa strada e poi è un'ottima occasione anche per incontrare giovani registi che sono diciamo esordienti ma sono il futuro del cinema ciao a tutti terra particolare la Calabria così abbiamo iniziato una settimana fa e ora con le premiazioni si è concluso in Magna Grecia Film Festival quinta edizione ma a vincere non è stato solo chi è salito sul palco ha vinto l'intero festival e chi ha deciso di venirlo a vedere e dire di altro ci vediamo al prossimo anno assalamualaikum kifalhan alhamdulillah come il fracchi il jammai e non c'è nessuna cosa e non c'è nessuna cosa e tutto ci viene l'hafla l'hafla è un'ottima è un'ottima un'ottima buonanotte la terra ormanzipida chiudi notte un mango di cu la zappa notte e giorno lo ghiaccio di lupolo va a squagliano come lo yuca mi sonnilo mecco e attacco ora mi dici basta votare la curva all'autore ma sitta lì in uno specchio ci trovi la risposta è un basta where's my auntie i don't know where is the meter where my little body don't growl the aunt's in my son i don't know where is my secret she's in front i really don't know she's all the love as well stop where is the meter where my little body don't growl she's all the love